Da un primo stage che mi ha dato la possibilità alla scuola di poter fare, sono stato individuato probabilmente come un possibile candidato per una posizione al front office e sono stato assunto. Ho trovato soddisfazione sentirmi dire che il fine di questo stage sarà l'assunzione. I percorsi di istruzione e formazione professionale sono fin da subito molto caratterizzati nell'inserimento e nell'approccio al mondo del lavoro, perché fin dalla prima settimana del primo anno i ragazzi fanno metà delle ore nel settore tecnico-professionale che hanno scelto, quindi su circa 30 ore settimanali 15 sono in mondo della scuola di indirizzo e di queste 15 ore tecnico-professionali 8 o 9 sono di laboratorio, per cui sono già molto operative nel settore che hanno scelto. La media nazionale di tutti gli ITS è superiore all'80%, l'80% degli allievi trova un lavoro entro l'anno. Qui da noi, nell'ITS Rizzone di Milano, soprattutto sui corsi di area più ICT, quindi sistemisti di rete e sviluppatori software, il placement sfiora al 100%. Mi hanno detto che potrebbero assumerti. È una possibilità, sinceramente, alla fine dello stage spero di essere assorto. Le aziende apprezzano questi ragazzi, questo tipo di formazione in cui contribuiscono direttamente entrando in aula e quindi sono molto stimolati ad assumere i ragazzi ancora prima del diploma. Il lavoro c'è, il lavoro ce lo si crea, il lavoro ce lo si deve anche trovare, quindi bisogna mettersi anche nella condizione in cui si abbiano degli sbocchi sul lavoro, se si può dire. Ritengo appunto che noi siamo artefici del nostro destino, di conseguenza finché uno sta fermo non gli cade nulla dal cielo. Se uno ad esempio si inizia ad informare su, perché no, un ITS che ti può dare, diciamo, degli agganci, ma agganci seri, perché ti servono, sono molto utili nel mondo del lavoro, il lavoro si trova. Stiamo facendo un lavoro intenso con le aziende per ingaggiarle perché siano a bordo dell'ITS. Collaboriamo con le aziende non solo perché le aziende ospitano i nostri tirocinanti e poi assumono i nostri diplomati, ma sempre di più vogliamo che ci aiutino a progettare i corsi, quindi individuare quali sono i loro reali bisogni formativi. Io ormai sono giunto al termine del mio percorso qui in ITS e ho iniziato l'anno scorso a fare lo stage curriculare in una piccola società di Milano che è poi deciso di tenermi e adesso il secondo anno farò ancora un'esperienza lì per poi andare avanti a collaborare e vedremo come si svilupperanno le cose. Siamo anche un centro accreditato per i servizi al lavoro, per cui abbiamo una parte della nostra organizzazione che aiuta i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro, quindi a trovare occupazione con dei contratti stabili e al tempo stesso aiuta le aziende del territorio a trovare quelle risorse umane di cui ha bisogno. Da qualche anno abbiamo anche iniziato a fare dei percorsi in apprendistato in articolo 43, vuol dire che alcuni nostri ragazzi iscritti in terza o in quarta vengono assunti al terzo o quarto anno dalle aziende del territorio con un contratto di lavoro che è appunto quello dell'apprendistato in articolo 43 o per il conseguimento di un titolo di studio e frequentano 400 ore di formazione interna al centro di formazione professionale, alcune ore di formazione in azienda e altre ore di lavoro vero e proprio in azienda. Per il percorso fatto finora mi sento molto soddisfatto. Ho avuto molte soddisfazioni sia a livello lavorativo, anche la semplice recensione dove ti citano è piacevole, molto piacevole. Significa che il tuo lavoro viene riconosciuto, quindi il tuo sorriso non è lì solo per, perché è comunque un sorriso vero, parlo del mio, è un sorriso vero, quindi mi fa piacere che venga riconosciuto dalle persone. Anche il fatto comunque di essere assunto dopo due mesi, quando solitamente il tempo di assunzione, il tempo di stage per arrivare all'assunzione è di sei mesi, diciamo è stata una bella soddisfazione. Il mio primo giorno di lavoro in Alascom è stato molto emozionante per me. Quando arrivai nella mia postazione non sapevo ancora cosa fare, ma grazie al mio tutor aziendale mi ha spiegato cosa avrei dovuto fare in azienda e quali sarebbero stati i passaggi per il mio futuro. In classe con me nel corso, diciamo, nell'ITS eravamo tra i 20 e 25 persone e a quanto so, diciamo, io sono ancora in contatto con qualcuno, però a quanto so un buon 80, se non 90% delle persone hanno trovato, diciamo, un lavoro con questo corso. In un mio futuro vedo sicuramente un'esperienza all'estero, di più di un anno, non si parla di un'esperienza breve, ma molto più lunga e perché no magari anche andare a vivere. Dato che comunque le competenze che abbiamo imparato qui in ITS sono richieste in tutto il mondo. Si è rivelata una scelta giusta, una scelta giusta, ecco. È per quello che mi sento fortunato, diciamo. Grazie. Grazie. Grazie.